I Mao inibitori hanno causato la febbre, l'alcol ha causato la pancreatite e l'astinezza d'alcol, la tachicardia. La tua logica è inconfutabile. Ti sbagli. Ma chi si deve credere? A un giocattolo classico o a una donna che non si fida delle sue idee e cerca di distrarti con un reggiseno ad acqua? Sul serio vuoi curare solo la pancreatite? Sei qui per aiutarmi? Non voglio che Megan muoia perché tu sei testardo. Sei in grado di aiutarmi e di razionalizzare. Sì, sei ancora il primario. Se hai ragione tua, quel ragazzo che non è un imbecille, non è un drogato del lavoro e non è un sociopatico, è sfuggito che la sua compagna era depressa e che era precipitata nell'alcolismo. Sì, pensa che è strano, una coppia che ha dei segreti. Ma perché lei gli avrebbe mentito? Ok, se bevi non vai a sbandierarlo in giro, ma... Se hai visto giusto, ci deve essere una lesione pancreatica. Fa una risonanza per averne la conferma. Oh mio Dio... Il rapitore fa proprio sul serio. O i rapitori, perché a pensarci bene possono essere più di uno. O una donna. Chi lo sa? Quello che posso dire è che chiunque sia è molto audace. Non ho intenzione di assumere una squadra. Hai mai teso la corda di una chitarra molto, molto lentamente, oltre il punto in cui posso portare la tensione? Sai, fa un suono strano, che sembra quasi un lamento. Grazie. 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 Grazie.